A questo lato c'è il mister, il preparatore dei portieri Aurelio Gaspari che sta allenando i suoi portieri. Abbiamo adesso Matteo che si accinge all'esercizio e alla parata. Il prossimo è Francesco Cocco, l'ultimo arrivato, effetto all'esercizio richiesto dal mister, parata di... adesso si accinge il baby Danielucci, fa l'esercizio e si appresta la parata. Adesso si accinge Dinella, non mi ricordo il nome di Battesimo, Dinella si accinge a fare l'esercizio. Adesso c'è Johnny Perrucci, si accinge a effettuare l'esercizio, l'ha deviata, sta a posto. Ecco il nostro mister. Vai, via, pronto, vai, via, vai, facciamo un passo in più, via. Si accinge Francesco. Vai, uno, due, tre, pronto, vai, via. La palla si deve fermare, eh. Forza Daniel. Uno, due, tre, pronto, guadagna un po' di metri, via, forza, dai, prende la questa palla. Su, prima la dì tre.